Il treno regionale veloce, 2219, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 1.06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Portogruaro-Caurle, Latisana-Lignano-Bibione, San Giorgio di Nogaro, Cervignano-Aquileia-Grado, Monfalcone. Il treno regionale veloce, 22.06, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 6.50, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ceggia, San Donal-Piave, quarto d'Altino, Venezia Mestre. Il treno regionale, 11.03.2, di Trenitalia, proveniente dalla Tisana-Lignano-Bibione, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 7.23, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 28.4.6, di Trenitalia, proveniente da Porto Gruaro-Caurle, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 19.26, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Venezia Carpenedo. Il treno regionale, 27.99, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Porto Gruaro-Caurle, delle ore 22.25, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Lison.